Si chiude oggi a Molfetta il fashion contest, giovani stilisti, una sfida fra gli studenti di 10 istituti di moda pugliesi, 3 giorni di sfilate, creazioni donna, tema di quest'anno New York, la città che non dorme mai. Ecco i nomi degli istituti di moda selezionati, il Vespucci di Molfetta, il Majorana di Martina Franca, il Lenoce di Maglie, il Giannone di San Marco in Lamis, il De Pace di Lecce, il Cosmai di Trani, il Borghi di Lucera, il Bottazzi di Taurisano, il Chiarulli di Acquaviva e il Morvillo Falcone di Brindisi, l'istituto di Melissa Bassi. In chiusura l'agenda...